Direi che è il momento di tornare a casa e lo faccio proprio dal mio nuovo ingresso, dal mio nuovo percorso Perché ragazzi ho lavorato molto tra un episodio e l'altro e ci sono delle grosse novità Dormitina tattica Fatta Eccoci qui, un po' lenta, ci mettiamo subito in F5 E vi saluto, salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio Della serie di sopravvivenza con il bug del vetro che è ancora qui E un po' mi ci sto affezionando perché sembra che volo Guardate, Eren sei in creativa, stai citando Buon lunedì, buon inizio di settimana, anche se ormai le settimane hanno un po' perso il senso Però ragazzi è anche bene tenere una sorta di ordine, di routine se vogliamo E ragazzi, oggi partiamo subito da alcuni aggiornamenti Non mi sono occupato del castello ultimamente Ho deciso di prendermi un attimino o una settimana di stacco, insomma qualcosa così Per, diciamo, rifillare il cervello di idee nuove Mi sono quindi occupato della zona della farm Come abbiamo iniziato nello scorso episodio E secondo voi sono andato avanti? Certo che sì Guardate un po' qua fuori Tac, non cambia niente Ma guardate un po' qua sotto Tac, cambia tutto Cos'è quella scala? Adesso vi faccio vedere tutto quanto Ma direi di partire dal principio E quindi scendiamo un attimino da questa parte Allora, nello scorso video ho rifatto interamente il design di questa farm qui Quindi, almeno esternamente, ho rifatto le pareti E ho ottenuto questo risultato Molto pieno di colori Un pochino randomico Mi piace È uno stile che ormai adotto da un po' di tempo E ci voleva dopo sette anni che esiste Direi che era il caso Ho quindi continuato anche dalla parte opposta E ho tirato fuori quest'altra parete Questo angolino penso che sia il mio preferito Cioè, addirittura mi piace di più di quello iniziale E il tutto continua anche da questa parte Vi faccio notare subito una cosa Inoltre, ho stretto la farm di un blocco Ricavando un blocco extra di spazio Perché era di dimensioni pare Quindi non riuscivo a fare il mio design In questo modo l'ho potuto fare tranquillamente Anche qui ho messo il pilastrino Che si confonde nelle slab di pietra In modo da sembrare incastonato E vari dettagli Quali lanterne, vegetazione varie, eccetera, eccetera Continuando qua sotto Come vedete Ho sistemato anche questo angolo O almeno ho iniziato a farlo La prima cosa che si nota Probabilmente è che non c'è più L'odiosa e contorta scala qui dietro Non c'è più L'ho tolta Fine Caput Non esiste più Questa piccola area è ancora come prima E invece ho scavato qua sotto Creando questa sorta di arcata La struttura con i due archi Che si incontrano qui E sorreggono la parte della farm E teoricamente qua dietro C'è la farm di polli Ma devo ancora finire Il lavoro Come vedete Non è ancora fatto Bene Quindi quella scala Da che parte spunta? Spunta Nel boulevard Nel boulevard E come vedete Ecco qui la scala Ho fatto la scala Larga 2 Adesso Quindi è possibile Salire e scendere Fino a qui In maniera molto facile Tra l'altro ho anche messo Il percorso qui Che non c'era mai stato Ed era arrivato il momento Di metterlo Quindi non più scala Stretta 1 Ma larga 2 Non più strane deviazioni qui Ma ho sfruttato la montagna Anche qui devo finire Tutta l'estetica Chiaramente Per avere un passaggio Un po' più comodo E quindi qua sopra Metterò un giardinetto Quindi si è liberato lo spazio Qua dietro C'è la chest Nella quale Finiscono i drop Di due farm automatiche Quella di cactus Che dovrei Aggiustare O allargare Quanto meno E quella automatizzata Di zucche e meloni Anche qui è tutto Ancora molto grezzo Ma il discorso È molto semplice Questi drop Finiscono sotto Nel compost Se io attivo questa leva Non succede più Come vedete I blocchi non scendono Nella tramoggia E quindi semplicemente Switchando questa leva Posso decidere Se utilizzare questa farm Per droppare Meloni Zucche E cactus Oppure se Bone meal Dal compost E quindi molto semplice E molto pratico Anche questa parete È stata fatta Con qualche dettaglio in meno E finalmente Il tetto della farm Che era Un pugno negli occhi È stato sfruttato Per qualcos'altro Quindi ho messo Un doppio soffitto E l'ho utilizzato Per mettere Un giardinetto Con una piccola cascata Decorazioni Come vedete È un piccolo giardinetto Qui sopra Che sicuramente È meglio Che vedere Un tetto Lipiatto Dove non ci facevo Assolutamente nulla Finalmente Quest'area Non è più Motivo di Di chiudere un occhio Ogni volta che passo Pian piano La miglioreremo Manca ancora Tutta questa parte Qua sotto Va tutto rifatto Ma insomma È un inizio Poi ho messo Anche questo ponticello Come vedete Ho usato Sotto vostro consiglio Il campfire Creando una sorta Di archettino Che lo sorregge E campfire spenti Per creare Questo ponticello Lo preferivo Incurvato Non si può fare Con i campfire Però devo dire Che Fa sempre la sua porca figura Il ponte Fatto in questo modo E nulla Per ora siamo arrivati A questo punto Arriviamo poi Nel nuovo passaggio Per entrare E direi che ragazzi È arrivato il momento Di andare oltre E continuare Gli aggiornamenti Ma prima Vi faccio conoscere Un nuovo pet Della serie Perché Sì Non era preventivato È capitato Ma ve lo devo Assolutamente far vedere È successo tutto il live E il bello delle live È che accadono cose folli E purtroppo Non sono preventivabili Siamo in diretta Quindi capita che Sto per morire Capita che Spawnano mob In casa Che non dovrebbero Spawnare E infatti Tra l'altro Ne approfitto per dirvi Che stasera Alle 20.30 Sono in live Sulla serie Quindi Trovate il link In descrizione Vi aspetto Infatti ragazzi Entro in casa E qua Mi trovo un enderman Con un fiore In mano E dico ma Come ha fatto Spawnare un enderman Qui Che è tutto illuminato E ragazzi Quell'enderman Ora L'ho catturato Ed è diventato Il mio cuoco personale Essendo un enderman Ed essendo uno chef L'ho chiamato Chefderman Come vedete Dal suo nome Oppure Chefderman Se vogliamo Però sappiate Che anche qui C'è il gioco di parole Ora Questo chef È molto simpatico Perché sta qui Dietro i fornelli Non devo più farmi Da mangiare da solo Ci pensa lui Chiaramente Ma è un pochino Scorbutico Infatti se Cerchi di guardarlo Lui Insomma Si offende E rimane incacchiato Finché non spegni il gioco Poi Rientrandosi Resetta Infatti adesso Vi faccio vedere Esco un attimo Ok Esatto Ora mi ha perdonato Come vedete Quindi lasciamole Le sue cose Nel mentre vi ricordo Anche che in live Sto raccogliendo I nomi dei sub E sto creando Un libro Con tutte le firme Dei sub Come se fosse Il libro degli ospiti Negli hotel E passano i visitatori Lasciano il loro nome Siamo arrivati Alla pagina 68 Quindi stasera Si Pagina 69 Limao Ma soprattutto Siamo sempre più vicini Alla centesima pagina Che è un po' Il mio obiettivo finale Sarà davvero fighissimo Perché a quel punto Avrò scritto 1400 nomi Pensate un po' voi Ok Ora che abbiamo impegnato Un sacco di tempo A parlare dei progressi Fatti off camera Perché Anzi in realtà Ero in live Però comunque Da un episodio all'altro Perché erano tanti Possiamo continuare Prendendo Un'altra iniziativa E Per una cosa Che ho sistemato Costruito È arrivato il momento Di Distruggere qualcosa Lo so che potrebbe Farvi male Ma penso sia arrivato Il momento E guardando questa visuale Forse potreste anche Capire Qual è Il mio prossimo Obiettivo Ragazzi Ci tocca La farm di Liane La farm di Liane Non ha più ragione Di essere così La possiamo rifare E quindi Ragazzi È arrivato il momento Di distruggerla Per distruggere La farm di Liane Voglio innanzitutto Prendermi una cesoia Così Togliamo tutte le lane E poi ovviamente La ricostruiremo In maniera Più comoda In un'altra zona Direi Nelle mini farm Che ho là sotto E Lo so che è storica Anche in questo caso Però non la uso quasi mai E soprattutto È molto antiestetica Diciamoci la verità Allora Prendiamo pure queste Queste Le uniamo E andiamo Pensate ad andare Dall'Eren Di Sette anni fa E dirgli Oh ma lo sai che nel 2020 Tutto quello che stai facendo Verrà o rifatto O distrutto Chissà come ci potrebbe rimanere Però ha senso E io mi sono fatto Due calcoli Di sto passo Quando aggiornerò Tutto il mondo Tutta la base Sarò così Indietro Con le versioni Che dovremo aggiornarlo Di nuovo Quindi è un lavoro Pressoché infinito Ed è anche un po' Fico Però se ci pensate Perché ricorda molto La vita vera Dove Insomma Se hai una casa Devi continuare a fare Manutenzioni Modernizzarla Ci sono nuove tecnologie Nuove cose da mettere Quindi ha un suo senso In realtà Come discorso E diciamo un'altra grande verità Questa farm Non è mai stata Così produttiva Come oggi Perché sto togliendo tutto E Saranno anni Che non raccolgo Da questa farm Così tante liane Quindi direi che In fondo Il suo dovere L'ha fatto Dai Ora questa parete La dovremo Ovviamente Rifare Rifondare Totalmente E potremmo addirittura Pensare di Allargarci un po' Qui dietro c'è la zona Enchant E potremmo pensare di Non so Fare un piccolo Allargamento della casa Perché no Un porticato Magari Sfruttando il fatto Che qui c'è una zona Barbecue Potrebbe essere un'idea Togliamo quelle ultime liane Però intanto Così non cresce più niente E poi Ragazzi Procediamo A demolire E questo ponticello Ragazzi È davvero Terribile Diciamoci la verità Quindi Ci sta tutta Che lo togliamo Ora non dovrebbero più Crescere gli ane E abbiamo Tutta una nuova zona Che potremmo sfruttare Anche per Appunto Allargamenti della casa O semplicemente Estetica del giardino Ora direi di mettere Un po' di Torce Per evitare lo spawn De mob Qui c'era il passaggio segreto Che ora è scoperto E Insomma Pensiamoci Sicuramente Servirà A fare qualcosa Ora il discorso Delle liane In realtà È molto stupido Perché Non ho bisogno Di una farondigliane Quando mi crescono Liane ovunque Tipo questa La dovrei tagliare Tutta Perché non ha neanche senso Quello è un altro discorso Però Ma anche se andiamo Nello stesso boulevard Guarda come flexa Quanto ice Mamma mia Quanto ice Unbreaking 2 Beh non è un gran che però Ci sono liane Che crescono Ovunque Si arrampicano Si attaccano Coprono la panchina Quindi Non c'è proprio bisogno Di una farm Di liane Ma simbolicamente Ne vorrei fare una E quindi Nella zona Qui delle farm Si dà il caso Che io abbia Oltre a questa stanza Dove c'è Quella di basalto E quella di Di Concrete Dove avevo anche provato A mettere delle liane Però Poi ci ho ripensato Ho un'altra stanza Che scavai E non ho mai usato Che è questa Quindi perché non farlo qui Semplicemente Quindi ragazzi Tappando Giusto quello che serve E poi chiaramente Dovrei rifare l'estetica È sufficiente Che io metta Qualche blocco Così Per appoggiarci Prendo le liane E le vado ad appiccicare Ovunque Attorno Soprattutto Questi blocchi Così che Quando Le liane Cresceranno Io entrerò In questa stanza Me le troverò Letteralmente In mezzo Ed entrando Con le cesoie Sguainate Le potrò Rimuovere E farmare Poi se proprio Vogliamo Esagerare Le mettiamo Anche sulle pareti Però considerate Che a una certa Le pareti Le dovrò Pur Rifare E rendere Un pochino Più carine Quindi questa Diventerà La location Della farm Di liane Punto Non servirà Niente Probabilmente Ma giusto per dire Che ne ho una Ce l'abbiamo qui Inizialmente Volevo fare Una farm Automatica Però ripensandoci Non è possibile Perché le liane Non sono Automatizzabili Non sono automatizzabili In quanto Il dispenser Con la cesoia Che potrebbe Teoricamente Tagliarle Come funziona Su altre cose Non ha la funzione Per le liane Suppongo che Prima o poi La metteranno Cioè credo Che sia una Dimenticanza Ma al momento Non possiamo Creare una farm Full automatizzata E quindi Ci attacchiamo Un po' Si potrebbe Fare una farm Che utilizza Il player Fk O qualcosa Del genere Quello sicuramente Si Signor chef Vuole fare la Ok Non vuole fare L'outro con me Mi scusi Scordavo che Lei è abbastanza Malmostoso Ma se io Posso mettermi qui No Non posso mettermi No mi sono incastrato Nei fornelli No non voglio Non voglio morire così Ma stiamo scherzando Devo stare attento Mi è già capitato Di finire nei fornelli Una volta E non è Molto piacevole Allora Rimettiamo Ah ok Sono finiti Ecco dove sono finiti Le G LOL Nel fornello Giustamente Ragazzi Concludiamo qui Questo episodio Con le dovute distanze Da Derman E' stato Un episodio Di raccordo Vi ho più che altro Spiegato che cosa ho fatto Tra un episodio e l'altro Ora Andremo avanti Con questo progettino Di ristrutturazione Nel mentre devo finire Il castello E poi pensare A nuovi progetti Anche se Con la 1.16 prossima All'uscita Ve lo dico Ci dovremo spostare Nel Nether Anche Per iniziare A buildare lì Fare le farm Definitive E fare tante cose Carine a tema Nether Quindi ragazzi Detto ciò è tutto Noi ci salutiamo Ci vediamo domani Con un nuovo video Stasera Alle 20.30 In live Un saluto Da Reblaze Ciao a tutti Ciao a tutti